Serata da dimenticare per un ragazzo di 20 anni di brindisi picchiato con pugni e calci mentre era in centro e costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Antonio Perrino. Ha riportato lesioni fortunatamente non gravi. L'aggressione è avvenuta tra via Filomeno Consiglio e via Congregazione. A chiedere l'intervento dei soccorritori del 118 e degli agenti della Questura è stato un brindisino al quale lo stesso ragazzo è riuscito a chiedere aiuto poco dopo la fuga dei suoi aggressori. Immediato l'arrivo dell'ambulanza e dei poliziotti della sezione volanti diretti da Eugenio Cantanna, gli agenti, dopo essersi accertati delle condizioni del ferito, hanno raccolto la sua testimonianza così come il racconto del brindisino che ha contattato il numero di pronto intervento. Quanto agli autori dell'aggressione, i poliziotti nel giro di poco tempo sono riusciti a identificare due giovani non ancora maggiorenni, denunciati entrambi per lesioni personali. Nessuno dei due avrebbe rilasciato dichiarazioni. Intanto una prima informativa di reato è stata trasmessa alla Procura per i minorenni di Lecce. Le indagini ora proseguono per accertare due aspetti. Va chiarito se all'aggressione abbiano preso parte altri ragazzi, tra maggiorenni e minorenni, e quale sia stato il movente, circostanze dalle quali potrebbe dipendere la contestazione di eventuali aggravanti. Stando alle testimonianze fino ad ora raccolte dai poliziotti, sembra che la violenza sia partita da una lita iniziata in strada e riconducibile a futili motivi. Gli agenti hanno chiesto l'autorizzazione per l'acquisizione dei video registrati dalle telecamere dei sistemi di sorveglianza presenti nella zona. È possibile infatti che l'aggressione, i minuti precedenti e quelli successivi della fuga da parte degli autori, siano stati immortalati da alcune delle telecamere degli esercizi commerciali.